In Inghilterra, perché lui ha suonato da tanti anni in Inghilterra. Come si chiama in inglese questo strumento? Washboard. E in italiano? Cossicature. E altro che una tavola da lavaggio, dei panni. Ecco, questo serve a un duplice, diciamo, una duplice funzione. Se hai fatto la lavatrice, lo stai dicendo? Sia per lavare i panni, ma anche lui lo utilizza personale. Adesso faremo un grano dove Giuseppe spoggerà le sue qualità da grande lavatore Giuseppe Santon. Giuseppe Santon 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.